L'attacco atomico del Football Club sfida la difesa meno battuta all'intera categoria. Vulpiani e Carletti ritrovano il fuso a distanza di qualche mese e l'esordio di fronte al pubblico amico è da brividi. Di fronte c'è la capolista, una squadra che vince da sette giornate consecutive e che si presenta in via Cagliari in grandissimo spolvero. Ma i rosso-blu vogliono il sorpasso, tanta qualità in campo, se per la panchina si è parlato di doppia coppia per i protagonisti sul terreno di gioco si può alludere a una vera scala reale. Benvenuti al fuso signori e signori, buongiorno da Andrea Dirix e da Alessandro Serra, l'ex del Morolo. Pallone a spiovere sul secondo palo, attenzione! E a pochi metri dalla porta, né Scafati né Frezza riescono a trovare l'impatto. Fischia il direttore di gara, parte Pitocchi sul secondo palo, Spaziani e poi arriva Di Giosia, sicuro. Nella presa, si trattava di Frezza, ma ha già recuperato il possesso del pallone il Football Club. Barile prova ad andarsene lungo la fascia dalla sinistra, se ne va con grande eleganza, Barile, ancora Barile, pallone dentro, Spaziani non arriva. C'è Di Giosia e poi Testa che va in verticale, Pitocchi ancora in verticale a sua volta, Brivitero anticipato. Va però, subentra nell'azione Citro, pallone sul Mancino, si coordina Citro, Di Giosia in due tempi, attento. Fischia il direttore di gara, va Pisapia col Mancino, pallone non scende abbastanza. Fischia Santoro, prova a Sfanò col Mancino, sicuro, Di Giosia, ben piazzato. Ma sbaglia la misura del passaggio, commette anche Fallo, fa giocare l'arbitro per il vantaggio. Attenzione Pitocchi, ma c'è una grande uscita bassa sui suoi piedi di Di Giosia. Un grande break di Laforgia che innesca Caldaroni, poi c'è Pitocchi che fa dica davanti alla propria vita a campo. Attenzione, opportunità per Barra, Barra punta l'area, Barra. Viene contenuto da testa e poi scivolata Primiterra su Di Giosia, commette Fallo. Dalla parte opposta che manda in causa Ricci. Ricci dentro verso Citro, anticipato, poi da fuori prova Citro, Di Giosia con i pugni in angolo. Chiama il giro veloce da Vicciantioni. Qui, attenzione, viene Murato, Sfanò, non c'è fuori gioco. Allora c'è Sina che punta l'area. Sina poi si ferma, se ne dira in palli. Arriva anche Caldaroni e dargli manforte e alla fine se la cava il Football Club. Per cominciare l'azione da dietro, allora va in verticale, attenzione, deve stringere la diagonale. Lunghi rischia su Primiterra che anticipa Di Giosia ma spedisce sul fondo. È una furia di Giosia. Un solo uomo in barriera, ordinato da Ruggini. Parte Pisavia sul primo palo, colpo di testa, miracolo di Ruggini! Sul colpo di testa di Sina! E calcio d'angolo per il Ciampino, ancora con Pisavia. Pallo sul secondo palo, il colpo di testa! Schiacciato col pallone che termina oltre la traversa. Il pallone favorisce il ripiegamento di Dellimuti. Rimane poi a terra il numero quattro del Ciampino. Attenzione, ha voto la copertura di testa. Scerrati, scerrati col Mancino, Di Giosia in due tempi. Di forza, il numero otto del Football Club. Prova a innescare Spaziani. Occhio a Spaziani, quasi zona tiro. Prova a servire Piantadosi, Piantadosi col Mancino! Di Giosia sul primo palo. Palo di ritorno ancora per Piantadosi. Che effetto del traverso dal centro. Allontanato da fuori, provare i becchini. Con Di Giosia, attento, in presa bassa. Occhio a Calderoni. Fa salire lungo l'out, Lunghi. Ha spazio il terziano destro del Ciampino. Mette il pallone dentro. Sina! Col pallone che si perde a pochi centimetri dal palo di sinistra. E l'ha toccata anche in questa circostanza Ruggini. Tocco per Pisapia che fa viaggiare lungo l'out. Brunetti, Brunetti mette il pallone dentro. Sina a terra in un contrasto del tutto regolare. E finisce qui all'Arnaldo Fuso. È 0-0 al termine di una partita che non ha riservato moltissime occasioni. Sostanzialmente è un tempo per parte.